Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora, quest'oggi puntata conclusiva per questo mercato invernale della stagione 23-24 perché appunto quest'oggi con ogni probabilità vedremo l'ultimo giorno del calciomercato ma prima ovviamente bisogna affrontare il Napoli che è in lotta per lo scudetto praticamente in campionato perché infatti raga, avendo dato un'occhiata praticamente tra le camere spente alla classifica vediamo che allora innanzitutto noi in caso di vittoria siamo quinti in solitaria e appunto il Napoli è in lotta insieme al Milan e alla Juve per il titolo il Napoli se ci batte va a 53, il Milan deve giocare con la Sampo quindi raga diciamo a prescindere, è una partita importante anche per loro nella scorsa puntata appunto abbiamo strapazzato l'Atalanta in Coppa Italia 9-2 in una partita particolarmente strana, vediamo un po' oggi le cose come andranno ma come assolutamente prima di incominciare a giocare vi invito a lasciare un mi piace riscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione e anche a sostenere il canale tramite una donazione grazie al link che si trova in descrizione detto ciò possiamo andare in campo ma prima come si vede anche dalle immagini nella scorsa puntata abbiamo venduto FT alla Stone Villa quindi adesso siamo scoperti e ci manca un terzino destro infatti c'è solamente Scalli che è abbastanza stanco in questo momento quindi a prescindere bisognerebbe provare ad intervenire sul mercato prima di scendere in campo diciamo che sostanzialmente ci mancano due acquisti a noi perché stiamo per vendere anche Bani al Granata e se parte anche Bani penso di riuscire a fare tutto quello che ho in mente di fare speriamo comunque ragazzi appunto ci serve un nuovo terzino destro praticamente come abbiamo visto nella scorsa puntata il dubbio è essenzialmente fra due giocatori ovvero Aaron Rickey che qui sta al Brentford che appunto è al Brentford e poi l'altra scelta è il livramento abbiamo visto che il livramento sta per andare al Leeds però effettivamente deve ancora trovare un accordo con il Leeds il giocatore stesso quindi la trattativa è ancora in ballo quindi possiamo inserirci tranquillamente abbiamo visto nella scorsa puntata sempre che il saudento si trova in championship il Brentford invece è in Premier League anche il Leeds quindi ci sta che faccia il salto di qualità in una massima serie però ecco potrebbe pensare anche di venire in Italia se riusciremo però ad inserirci nella trattativa perché bisogna vedere il Leeds cioè comunque il saudento si accetterà anche la nostra offerta quindi ragazzi io sinceramente fra Ikkey e il livramento sono più curioso di livramento che lo voglio provare da un po' dalle statistiche sinceramente sembrano due ottimi giocatori entrambi quindi diciamo si casca bene in entrambi i casi però appunto mi incuriosisce leggermente di più livramento quindi raga direi di provare a prendere lui poi se le cose vanno male con lui ovviamente abbiamo Ikkey lì pronto a venire quindi ragazzi dai andiamo ad intrometterci in questa trattativa stanno passando anche abbastanza giorni per la trattativa di livramento Tino, si chiama Tino ragazzi dai Tino Livramento comunque stanno passando parecchi giorni appunto per la trattativa del contratto con il Leeds quindi vuol dire che non stanno riuscendo a trovare un accordo evidentemente e quindi perché non provare ad inserirsi però ragazzi non voglio, non posso spendere troppo perché dobbiamo prendere anche un nuovo difensore centrale quindi forse esagerando, rischiando proprio a partire addirittura da 22 milioni ne vogliono 37 mi sembra eccessivo proviamo a fare 22 e mezzo accettati ragazzi ma non c'ha senso cioè prima hanno sparato 37 gli faccio 22 e mezzo accettano subito che strano FIFA comunque in questo caso è una cosa che ci favorisce e anche di tanto 22 milioni e mezzo per un 78 a 21 anni sinceramente sono pochissimi quindi andiamo a trattare col giocatore ecco adesso l'ingaggio potrebbe essere un problema vediamo allora innanzitutto vuole essere cruciale giustamente un 78 ok 5 anni di contratto complimenti alla gente comunque ignoriamo la grossa necessaria e proviamo a trattare ragazzi io gli abbasserei anche di parecchio lo stipendio tipo ti offro 15 mila però qua ti do 350 tu che mi rispondi mi rispondi che vuoi qualcosina in più quindi tutto sommato ci abbiamo preso se ti lasciassi così che mi dici? mi dici che accetti benissimo ragazzi trattativa perfetta preso tino livramento ad un prezzo veramente irrisorio ovviamente prezzo irrisorio considerandolo il giocatore ragazzi il livramento è appunto un calciatore che alla sua età col suo potenziale dovrebbe costare molto di più effettivamente all'offerta da 37 milioni sparata da Stanton aveva pure senso ecco l'unica cosa è che era ancora in championship quindi ci sta che lui spinga per partire quindi ragazzi alla fine ci posso anche stare molto bene pagato anche poco proprio a livello di stipendio e quindi adesso ci mancherebbe solamente il difensore difensore che a sto punto abbiamo detto è serviti però io aspetterei un attimo i soldi ci sono 10 milioni però aspetterei prima di vendere bani così andiamo sicuri andiamo tranquilli per non rischiare tanto ragazzi abbiamo il tempo e adesso possiamo preparare la formazione per la partita formazione che praticamente avevo già preparata e bisognava aggiungere solamente il terzino destro quindi ragazzi ok possiamo andare in campo è arrivato tino livramento però aspettate un attimo innanzitutto vedo che la maglia del Genova è cambiata o sbaglio non ricordavo tutti questi sponsor comunque raga allora i giochi in automatico ho dato la fascia a Bassey ci posso anche stare secondo me ci può stare pure appunto se ci sono giocatori che ci sono da più tempo rispetto a Bassey però alla fine è in 80 il giocatore con l'horror più alto praticamente che abbiamo in rosa quindi se FIFA ha dato automaticamente la fascia a lui secondo me ci può anche stare quindi ragazzi dai scendiamo in campo Okoy ovviamente fra i pali poi Kerkac Bassi e Scalvini livramento subito in campo anche lui un 78 quindi abbiamo adesso un 78 anzi 3.78 e un 80 in difesa quindi benissimo poi al centro campo Perrone Frendrup che gioca al posto di Grunano troppo stanco Guler e Sharawio al posto di Nusa troppo stanco Shashua che anche se è abbastanza stanco lo confermo con Ekuban in panchina e Fatahui Saku sulla destra Occhio a Napoli che è una squadra veramente forte con Ramiro Matteo Oliveira Kim Zuma e Aguilar al centro campo Shkiri Shkiri appunto non conosco Zielinski Helmas hanno preso Cholis Carson e Osimene che è il capocannoniere Occhio subito Osimene neanche il tempo di battere neanche il tempo di iniziare la partita e Osimene sblocca subito la sfida tra l'altro raga non so se ci fate caso ma guardate Cholis col numero 13 non ha la faccia è trasparente e occhio ancora Osimene la scivolata totalmente sbagliata da parte di Livramento appena arrivato è andato fuori tempo pensavo di essere stato preciso sinceramente e si è tuffato dopo evidentemente bravo anche Osimene e ragazzi partenza veramente shock calcio di rigore giallo per Livramento qui diciamo che ho sbagliato io il destro di Osimene mi sono tuffato là ma il portiere si è lanciato dopo quindi non posso farci nulla c'era io ho azzeccato per il precisa il tiro però il portiere ha deciso di non partire o forse FIFA ha deciso di non far partire il portiere chissà e occhio palla per Guler appoggio è buono dentro per Chashua che prova a calciare subito dal limite tiro totalmente sballato possiamo andare Chashua che fa correre Perrone vediamo un po' la prima sgroppata in avanti Perrone la deve azzare verso Fatavu che intuffo va a botta sicura ma arriva il miracolo da parte di Remiro qua sinceramente mi aspettavo il gol qua veramente un gol mangiato da parte nostra dai ragazzi possiamo riapire questa partita anche se sembra impossibile ma secondo me abbiamo le carte in tavola per mettere in difficoltà questa squadra e Chalavi palla dentro Kim occhio Chalavi qui riconquista palla attenzione il Farone la deve appoggiare per Guler che non ho capito perché si è spostato così si è mosso così cioè a parte che io volevo calciare subito impotente quando capitano queste cose qui occhio ancora al Napoli Okoy è qui grande parata occhio Chashuari e Chastivire fa Tavu che ci riprova e stavolta non sbaglia a primo tempo apparentemente è scaduto un minuto oltre riusciamo a trovare il gol che forse ingiustamente riapre questa partita però diciamo stavamo provando a costruire qualcosa quindi forse forse tutto sommato ci potrebbe anche stare 2-1 siamo ancora vivi adesso mi raccomando nella ripresa ecco qui puntualmente subito il fisico dell'arbitro grazie FIFA in questo caso prima ci toglie ma poi ci dai comunque appunto 2-1 Napoli all'intervallo assolutamente meritato il vantaggio della squadra partenopea però adesso cerchiamo di far capire che ci siamo anche noi che possiamo battere chiunque faccio Guler aspetta un momento giusto per sapere Fatavissaku che va subito dentro Chashuari asciaccalciare bene chiuso poi Fatavissaku tira addosso Chashuac qui azione mega confusa veramente qui potevamo far meglio potevamo essere più calmi più tranquilli e occhio infatti alla ripartenza Bassi solo tu puoi tenere Rosyman occhio traversa clamorosa di Elmas qui graziati ma occhio ancora Elmas che ci riprova ma oggi il centrocampista macedone sembra essere particolarmente sfortunato qui arriva la parata di Okoye e occhio Shashua niente Guler si ferma ma attenzione ci arriva su Kim riesce a rubare di palla Guler niente ragazzi insomma che recupero e occhio Guler riesce a servire Kerkech addirittura che si è inserito Kerkech attenzione Kerkech no 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 era ovviamente per Shashua madonna non c'è senso sto gioco niente ragazzi quando non puoi vincere non puoi vincere punto però ci posso stare assolutamente soprattutto non è ancora finita bravo Frendrup che però sbagli a tocco ma c'è il recupero qui bravi ragazzi con Perrone e niente e niente ragazzi siamo arrivati al fischio finale non ci sono stati manco momenti della partita per fare i cambi perché in pratica il secondo tempo la palla non è mai uscita non voglio esagerare ma è quasi così comunque da dopo il sessantesimo sicuramente è così comunque ragazzi termina qui la partita vince il Napoli 2-1 torniamo a perdere in campionato ci posso stare certo FIFA non ci voleva far vincere oggi mi sembrava abbastanza chiaro ed evidente però ci posso stare in questo caso ecco non posso assolutamente lamentarmi il Napoli poi ha costruito tanto c'è stato un momento del secondo tempo dove diciamo ci ha messo tanta pressione addosso ma allo stesso tempo quei passaggi sbagliati a un centimetro hanno poco senso comunque ragazzi va bene non c'è problema vince il Napoli 2-1 restiamo sesti e rischiamo il recupero dell'Inter comunque ragazzi attenzione attenzione offerta per Kerkac così improvvisamente da Leverkusen beh ragazzi Kerkac assolutamente non dovrei neanche trattare quindi rifiuto a prescindere perché far partire adesso un giocatore così avrebbe poco senso FT già era diverso con Kerkac lasciamo proprio perdere comunque aspetto ovviamente aspetto l'ufficialità della cessione di Bani per andarmi a prendere ovviamente anche un nuovo difensore centrale completare la nostra nuova squadra comunque inizia appunto l'ultimo giorno di calcio mercato eccola qui la cessione di Bani che se ne va a giocare in Spagna al Granada va benissimo ci abbiamo guadagnato secondo me anche il Massimo aveva un anno e mezzo di contratto potevamo guadagnare zero infatti ok benissimo allora ci siamo Pellegrini intanto all'Atletico così all'improvviso quindi ragazzi abbiamo anche quei milioncini in mezzo in più per farci stare appunto più tranquilli per prendere ovviamente Mattia Viti perché ormai abbiamo deciso di prender lui soprattutto perché è italiano quindi ragazzi ci sta secondo me benissimo un ritorno di Viti in Italia sarebbe secondo me estremamente realistico quindi andiamo a trattare con Inizio e vediamo un po' quanto ci chiederà ovviamente spero non troppo prova addirittura 7 milioni e mezzo per iniziare ok non mi sembra male facciamo 8 e mezzo senza clausola ne vogliono 12 ok veniamoci incontro a 9 e siamo a posto ti prego no sono fermi a 12 a sto punto 9 e mezzo vorrei provare a spendere meno di 10 milioni così diciamo pure col contratto siamo a posto hanno bisogno di tempo ok speriamo che ci daranno una risposta in fretta perché non è che abbiamo tutto questo tempo comunque 9 ore che sono effettivamente abbastanza ok risposta che arriva subito accettano pure fantastico 9 milioni e mezzo per Viti ci posso stare effettivamente quanto stava scritto lì 9 e 6 9 e 7 quindi ok andiamo a trattare adesso direttamente con Mattia eccoci qua allora vediamo un po' che può essere turnover va benissimo ha capito tutto 5 anni di contratto 22 anni è bello il giovane benissimo ignora la sua recissoria ecco lo stipendio lo fa scegliere a me eh mo non lo so io farei 20 mila con 250 eh secondo voi è onesta come cifra si vuole solamente un bonus per le presenze che io vado a togliere ripropongo la stessa cifra che viene accettata benissimo eccolo qui Mattia Viti che si unisce al nostro Genova eccola qui l'animazione è sempre identica quindi andiamo avanti eh ok 9 milioni e mezzo sono curioso di vedere fifa che ci dirà vediamo 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 bla 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 eh di addirittura una maggiore capacità del negoziare dovrebbe fatto risparmiare 2 e 3 ma 9 e mezzo hanno detto che avevano bisogno di tempo quindi potevamo farci poco e nulla e adesso ragazzi teoricamente abbiamo fatto tutto abbiamo concluso il nostro mercato e quindi questo vuol dire che possiamo andare a dare un occhio alla rosa allora in porto ovviamente okoye e semper eh kerke ciao dei terzini sinistri adesso abbiamo Scalvini e Bamba diciamo sul centro-destra invece Viti e Bassi sul centro-sinistra con Viti che ovviamente sarà la riserva del difensore del difensore aspettato un attimo eh olandese o comunque anzi è nigeriano ovviamente Bassi viene dalla squadra olandese comunque sulla destra appunto rivoluzionato il reparto con Gioscagli e Livramento due ventunenni il primo Livramento ha tre punti overhaul in più appunto ovviamente Scalli è un 75 sicuramente vanno benissimo entrambi direi che probabilmente siamo a posto per tutta la carriera in questa posizione poi al centrocampo allora abbiamo Serdemir e Perrone sul centro-sinistra Gurnat e Frendrup che alla fine resterà a fare il sostituto del centrocampista francese poi con il C.O.C. non ci lamentiamo Guler che ha 18 anni è già un 78 Scott ne ha già 20 ma è un 74 quindi ragazzi il titolare è più giovane della riserva fantastico comunque Alex Scott è un altro acquisto bello pesante ed importante speriamo che possa incidere una cosa che dovrò andare a fare praticamente appena concludo il video è andare a controllare tutti i numeri di maglia e modificarli comunque in attacco ovviamente Shoravi Nusa sulla sinistra Fatavi Saku Lugano Mero sulla destra Shashua Ekuban le due punte con Ekuban che sicuramente quest'anno resterà a fare il sostituto poi l'anno prossimo vedremo tanto Ekuban ogni volta che viene schierato in campo si comporta bene quindi raga ovviamente non posso cederlo così a quel leggero io prevedo purtroppo una crescita fermata o comunque un blocco di crescita da parte di Shashua perché ragazzi ormai guardando questo piano di crescita aumenta solamente i dribbling per il resto è tutto appiattito ecco forse è meglio provare a cambiare così ci mette più tempo può essere che cambia qualcosa nella speranza che non si blocchi mai comunque ragazzi direi che abbiamo costruito un'ottima squadra con i contratti abbiamo solamente Semper che ha un anno e sei di contratto che si potrebbe rinnovare anche adesso ragazzi perché così anche se lo vendiamo l'anno prossimo meno ha il contratto a posto e lo vendiamo bene non vuole neanche niente ragazzi quindi gli stiamo dando quattro spicci sette e mezzo con cento k grandissimo Semper che evidentemente è molto legato al Genova quindi anche con i contratti stiamo a posto allora adesso gli stipendi quello più alto è sempre del faraone Sharavi 24.000 abbiamo scotto con 20 20 anche prebiti basse 18.5 18 per ok direi che tutti gli stipendi sono adeguati anche alla forza dei giocatori Sharavi è un 78 prende 24.000 un po' di più rispetto alla media ma ci può assolutamente stare vista anche la calatura tutto sommato del giocatore il giocatore invece meno stipendiato è Kerkic che è un 78 ma prende ancora 1.500 penso che si lamenti del contratto infatti però diciamo finché non succede nulla io non tocco nulla in questi casi e poi è normale che massimo massimo l'anno prossimo un rinnovo andrà fatto invece il giocatore più valoroso 30 milioni e mezzo Fatavis a Q 29 e basse ok ragazzi bene 22 Nusa tra l'altro stranissimo Nusa ne vale 22 ed è un 77 Fatavis a Q è un punto in più e vale 30 milioni addirittura un punto per oggi sono 8 milioni e mezzo di differenza comunque sicuramente la squadra c'è sta crescendo secondo me ne usciamo migliorati da questo mercato adesso vediamo un po' si arriveranno delle offerte se ci sarà qualche altro colpo di scena no perché il Milan vuole Scalvini Scalvini che non vado assolutamente a cedere soprattutto diciamo una squadra comunque italiana soprattutto a gennaio all'ultimo giorno di calciomercato quindi ragazzi non sono trattative da fare adesso diciamo che io prenderei in considerazione solamente offerte per sempre che è l'unico che diciamo un po' più in lago degli anni anche forse Ecuban e Frendrup però il resto voglio che resti uh ragazzi mancano due ore Arsenal su Nusa offerta realistica però appunto ragazzi mancano due ore rifiuterei a prescindere potrei anche trattare ma è praticamente inutile perché appunto due ore al termine non ci sarebbe stato il tempo fisico quindi ragazzi evitiamo facciamo scorrere quest'ultimo giorno arriviamo al giorno della partita che sarà mi ricordo neanche contro di chi però sarà di campionato e poi direi che possiamo anche fermarci contro il Bologna perché i miei piani erano di fare solamente la partita con Napoli e poi tutto mercato comunque ragazzi aspettate un attimo perché l'ultimo giorno si è concluso 742 milioni spessi reso conto sulla primavera offerta per Kerk che c'è un mercato chiuso quindi ha ancora meno senso rispetto a prima e come al solito gli osservatori però aspettate un attimo perché a proposito degli osservatori allora innanzitutto staff primavera ok invece il reso conto proprio per i giocatori che vabbè dovrebbe essere abbastanza rapido infatti questo Peter sta crescendo bene però è solamente un 55 potrei mandarlo in prestito eccetera eccetera nella speranza che cresca si baghi guadagni punti però ragazzi a me non piace fare queste cose sinceramente cioè preferisco tenerli qua nella speranza che siano forti e di farli salire in prima squadra più che altro poi sì in futuro potrei considerare dei prestiti se avremmo dei sovranumeri solamente in questo caso comunque poi questo Casadei conferma il potenziale sul 94 questo De Luca 86 92 anche se non è 94 vorrei portarlo in prima squadra come terzo partiere ma l'unica cosa che non cresce è l'età perché fermo a 15 anni da tantissimo tempo e quindi ragazzi per oggi possiamo fermarci qua concludiamo in mercato con quasi 2 milioni di budget direi che va benissimo con gli osservatori non dobbiamo fare nulla quindi ragazzi vuol dire che questi soldi resteranno anche per l'anno prossimo visto che siamo anche a gennaio comunque ragazzi vabbè sicuramente adesso questi due milioncini hanno poco peso ecco si potrebbe cercare qualche giocatore in scadenza di contratto ma sinceramente è difficile trovarli soprattutto che siano funzionali alla causa comunque ovviamente se troverò qualcuno o qualcosa ve lo farò sapere ci mancherebbe e quindi ragazzi direi che possiamo fermarci qua dando uno sguardo però alla classifica ok allora l'Atalanta adesso è stabilmente quinta noi restiamo sesti 39 punti meno due dall'Atalanta ma soprattutto più due dall'Inter e la Lazio è abbastanza distaccata io ovviamente a questo punto vado a mirare il settimo posto per non dire appunto al settimo posto perché il settimo posto ci porterebbe in Conference League poi dipende anche come andrò a finire la Coppa Italia perché c'è il rischio di restare addirittura fuori da qualsiasi cosa però non penso ragazzi penso che il settimo posto varrà per la per la Conference perché purtroppo abbiamo visto nella scorsa puntata che ci sono Juve Cittadella Milan Bologna Venezia Napoli ecco se capiteranno altre sorprese stiamo in una brutta situazione quindi ragazzi cerchiamo di fare attenzione perché dando per scontato di non vincere a noi questa Coppa Italia bisogna fare quindi attenzione restare appunto in questi primi sette posti e poi ragazzi ripeto la Conference non l'ho mai giocata proprio su FIFA pure per conto mio non è mai successo che in una carriera sono andato a finire in Conference quindi raga ci terrei a fare questa nuova competizione quindi ragazzi appunto per oggi mi fermo qua come al solito vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi al canale a scrivermi sulla pagina Instagram e a supportare il canale tramite una donazione noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti a tutti Grazie a tutti.